Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale Arte Allegra. Quest'oggi ancora una ricetta di mia nonna Angelica, esattamente l'insalata di arance. Nei giorni scorsi ho messo il video del tarocco siciliano. Con queste arance oggi preparerò l'insalata che mi ha insegnato mia nonna. Credetemi una vera prelibatezza, ogni volta che la preparo mi ricordo sempre mia nonna. Ma passiamo a elencare gli ingredienti. Le arance, ovviamente, uno spicchio d'aglio, prezzemolo fresco, sale, olio che deve essere rigorosamente buono, ma soprattutto il pane fatto in casa. La prima cosa che noi facciamo è quella di sbucciare le arance. Tagliamoli a pezzettini, sale, mettiamo l'aglio tagliato a fettine, il prezzemolo tritato, olio di oliva e mescoliamo. A questo punto non ci rimane altro che gustarci questa bellissima e buonissima insalata di arance. Con questo video io vi saluto, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare, a condividere i miei video con i vostri amici. Noi ci vediamo con una nuova ricetta di mia nonna Angelica nel canale Arte Allegra. Ciao e una buona giornata a tutti! Grazie! 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 Grazie!